eccoci qua siamo in diretta buonasera a tutti aspetto che arrivi qualcuno chissà vediamo un po poi mi dite com'è la connessione perché mi sembra piuttosto strana mi vedo vedo praticamente tipo come se fossi indifferita ok eccoci qua eccoci qua buonasera a tutti non vi porterò via tanto tempo perché c'è ancora luce quindi abbiamo tutto il tempo per spostarci se vogliamo per andare a vedere la luna insomma che stare con il naso all'insù io mi auguro faccio incrocio le dita che ciao daniela ciao elisabetta quanta gente già sono sempre molto come dire toccato e sorpreso dalla presenza massiccia di tante persone che stanno diventando alcune di queste persone sono proprio amicizie reali insomma che mi grande fetta fanno parte di questa famiglia d'anima estesa che sta risvegliato che si è risvegliata ormai ci sarebbe da fare un bel discorso su questo stasera lo faremo e vi stavo dicendo che speriamo che insomma che non sia nuvole che ci permetta di vedere l'acme di questa eclissi per certi versi storica che torno alle 22 22 una cosa di questo tipo tra l'altro una cifra simbolica molto potente che ha a che fare con con la chiusura di cicli e l'apertura di altri insomma il 22 nei tarocchi è il matto che anche lo zero allora dicevo non vi porterò via tanto tempo ciao marianna ciao pia ciao miriam mimmi basta non passerò la serata a salutarvi tutti dicevo non vi porterò via tanto tempo perché mi piace che poi insomma anch'io mi cercherò un posto per vivermi questo passaggio questo passante diciamo così questo momento in intimità perché questo è anche un po il tema di ogni eclisse poi di questa in particolare allora giorni fa mi sono visto costretto poi non mi ha costretto nessuno ma avevo il desiderio di dire un paio di cose perché giravano e girano fino oggi hanno girato ciao linda hanno girato post articoli avvertimenti catastrofici e attenzione a queste eclissi attenzione effetti nefasti eccetera allora facciamo subito un discorso molto pratico discorso molto pratico è come qualsiasi cosa che poi precipita nella materia cioè che diventa in realtà gli effetti di queste eclissi si sono già visti sono sono montati nel momento in cui ci sarà stasera queste crisi di luna i giochi saranno fatti tra virgolette quindi se proprio avessimo voluto metterla su questo piano abbiamo sbagliato tempi e tempo perché come qualsiasi cosa come una malattia così come anche che ne sono un progetto che matura un innamoramento che matura in realtà la materia lenta dell'ultima cosa sulla nella quale poi si esprime qualcosa che però è già nato prima e quindi giorni fa ha cominciato a montare in particolare particolar modo dagli ultimi due giorni purtroppo l'abbiamo visto anche ma a livello macro cosmico che cosa è accaduto diciamo non entriamo in questo argomento che sto riferendo alla grecia tutto il resto perché comunque sarebbe molto complesso e anche trovo anche inutile perché le cose stanno come stanno e non è colpa dell'eclissi ovviamente ma tutta l'energia marziana di questa eclissi che dopo lo vedremo questo aspetto importantissimo si è una terra così magica e così importante per la nostra spiritualità spiritualità come come la grecia che è la terra degli antichi dei e da cui è nata tutta la cultura parte della cultura occidentale che a me fa un po ridere quando diciamo che noi abbiamo delle radici cristiane sì abbiamo anche delle radici cristiane ma anche e comunque vi dicevo che il tema fondamentale poi di questa di questo passaggio non dimentichiamoci che per tutta luna piena no una piena ciao paola ciao laura una piena in in acquario è proprio quello di un'energia marziana che presuppone presuppone una grandissima delicatezza io non vi parlerò di astrologia fine a se stessa perché pur amandola immensamente io non sono non mi sento un astrologo non faccio l'astrologo astrologia che io amo molto sono riduce tra l'altro una settimana astrologica con l'analisi abanese meravigliosa a ischia quindi vi parlerò di quello che sono i simboli il simbolo che è l'espressione più piccola diciamo così più atomica di quelle che sono le energie che si muovono nell'universo e anche dentro di noi allora il punto qual è il punto è che l'energia di questi giorni un'energia caratterizzata da due cose fondamentali la prima cosa fondamentale è da ricercare in quello che sta facendo il lavoro che sta facendo un certo marte ora dovete capire che i simboli lo sapete benissimo sono in realtà metafore e poi coincidono anche nelle varie culture nelle varie spiritualità in un certo senso possiamo dire che marte e sang michele e sciva io sono vestito con una maglietta di sciva meravigliosa non ve la faccio vedere perché non ce la faccio e è in un certo senso come oggi oggi francesca hollin vannini dalla thailandia saluto magari mi sente con con a cash ha postato in un'immagine che dove ha molto intelligentemente molto intuitivamente fatto ci vedere la dea cali ecco tutto quello che è distrugge il vecchio è il tema di questa luna marte che rappresenta l'energia maschile che rappresenta il braccio di zeus quindi come san michele il braccio armato in un certo senso di dio no e sta facendo un lavoro di pulizia e sta facendo un lavoro di pulizia finissimo facendo un lavoro di pulizia molto antico di cose molto antiche antichissime non è un caso che in questo momento marte congiunta alla luna che in acquario oggi che è piena e che in realtà è una luna piena per modo di dire perché tra un po diventerà una sorta di lilith diventerà una luna nera diventerà una luna coperta dalla terra stessa e quindi comunque in eclisse è congiunto al nodo lunare sud che cos'è il nodo lunare sud che cos'è il nodo lunare nord beh ci sono varie teorie in proposito ok possiamo dire in un certo senso che il nodo lunare sud è quella valigia diciamo così di attrezzi che noi ci portiamo dietro dalle esperienze passate per qualcuno perché crede nelle vite passate proprio dal karma e ce lo portiamo dietro e qui dobbiamo imparare a usarlo in un modo diverso nuovo diciamo così attinente alla lezione che ci siamo scelti qui quando abbiamo deciso di scendere chissà come chissà quando chissà perché naggia e scherzi a parte e quindi tutta quella valigia che contiene anche tutto ciò che non serve più che ciò che è vecchio tutti quegli strumenti dobbiamo buttare via tutti quei quelle matasse quei nodi anche quei una cosa forte quella che sto dicendo quei contratti sacri che abbiamo fatto con noi stessi che non sono che sono che erano validi nel momento in cui l'energia di quella cosa era fondamentale nel momento in cui non ci servono più non sono più sacri vi ricordate quell'episodio dei promessi sposi tanto amato e tanto odiato dove c'è lucia che non riesce a finito tutto non riesce a a dire a stare nel suo amore per renzo perché ha fatto un patto ecco quella è una situazione assolutamente karmica noi molto spesso stiamo in situazioni che si perdono la notte dei tempi per una serie di accordi che abbiamo preso con noi con altre anime con altre persone con altre situazioni e non ci rendiamo conto che una che il con contratto è sacro nel momento in cui è ancora vibrante pensate anche solo al matrimonio pensate a quanto tempo c'è voluto nella cultura mondiale occidentale non solo in altre culture non è così per decidersi a recidere una cosa che non ha più a che fare con l'amore ok e quindi ecco una cosa simile in questo momento Marte sta tagliando tutti i rami secchi e guardate che non è che sta tagliando dei rami secchi Marte inteso come la spada di san michele non è che sta tagliando dei rami secchi con l'aiuto tra l'altro della luna sta tagliando dei rami secchi qualsiasi sta tagliando i rami secchi con la r con la s maiuscole ok e il dolore che noi proviamo in questo in questo momento ecco giustamente c'è Monica Monica buonora ciao ti saluto che dice una cosa che è esattamente il senso di quello che sto dicendo l'acquario è libertà buttare 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 cioè Marte in acquario è liberarci da qualcosa che non serve più e nel quale noi ci siamo identificati talmente tanto ma ormai non ci ricordiamo neanche più perché ok il problema qual è che non so se aveva mai capitato di è un'immagine forte che sto usando di che un cellino qualsiasi altro tipo di animale finisse intrappolato ma anche noi stessi no ora quando c'è qualcuno che ci sta liberando se noi siamo nel panico siamo comunque ancora identificati con quella cosa di cui abbiamo un investimento abbiamo pensiamo di avere ancora dei figli energetici che ci tengono lì ci dibattiamo un po come un pesce nella rete ci agitiamo reagiamo e questa cosa fa sì che il lavoro di pulizia di taglio della spada sia molto doloroso o doloroso perché ci possiamo ferire in un certo senso è come se ci ferissimo da soli ok ma cos'è questo in particolare questo tipo di lavoro che sta accadendo in questo momento il tipo di lavoro che sta accadendo in questo momento è il lavoro sulle relazioni chi mastica un po astrologia maya soprattutto quella galattica che la nuova astrologia maya che sta che piace molto diciamo così per esempio di cui scrive in maniera superba stefania marinelli la stessa francesca hollino vannini eccetera e noi abbiamo finito un paio di giorni fa un ciclo di 12 anni ok nel quale siamo ci siamo presi la briga per accordi che avevamo con noi stessi di sondare tutto quello che ha a che fare con le relazioni compreso il senso di inadeguatezza compreso il senso di fallimento compreso il senso di indennità indennità di questa cosa e quindi un ciclo che abbiamo iniziato inconsapevolmente o consapevolmente che sia nel 2006 io sono andato indietro nel tempo e mi sono reso conto di quanto in effetti questi 12 anni per me siano stati incredibilmente sfidanti sul piano delle relazioni dove è uscito di tutto dove sono finito nel in un matrimonio finito nel senso che ho iniziato un matrimonio l'ho terminato sono finito all'inferno per una serie di motivi e sono in qualche modo più o meno risorto tipo decidendo un po tipo di tornare in superficie consapevolmente perché giù non mi volevano più del tipo che palle c'è rotto ecco tutti noi abbiamo fatto questa cosa e ci ritroviamo in questo momento in molti io sto constatando di quanta gente in questo momento di quante persone veramente belle e quando dico belle intendo belle energeticamente belle fisicamente con una bellezza tutto tondo siano in questo momento non in relazione o comunque abbiano dei grossi delle grosse difficoltà con la relazione in questo non è un caso perché questi 12 anni hanno fatto tabula rasa di una serie di situazioni ci hanno ributtato in un certo senso in quella situazione nella quale che esprime molto bene a un certo punto Gesù nel Vangelo quando dice ai suoi discepoli lasciate i vostri fratelli lasciate le vostre sorelle lasciate le vostre mogli lasciate i vostri mariti che non vuol dire un'instigazione a delinquere o un'instigazione a divorziare o non è un sabotare se mi sentisse un un cattolico integralista in questo momento sarebbe veramente inorridito ma mi piacerebbe fargli questa domanda come la metti con questo pezzo no? nel Vangelo con questo brano e quello che ci sta dicendo in quel momento Gesù Cristo è la cosa che è accaduta in questi anni senza paragonarci in maniera cristica come identificazione della sofferenza cioè quello che ci ha portato a trovare la verità e ad andare alla ricerca di noi stessi per cui durante la ricerca di noi stessi ci capita che situazioni anche sentimentali e non solo comunque che ci confrontiamo con qualcosa che non ha più senso di esistere o che dobbiamo modificare o che semplicemente è finita perché forse ci dovrebbero anche insegnare che un certo tipo per esempio di amore ha la data di scadenza come lo yogurt cioè nel senso che serve funzionalmente all'evoluzione dell'anima e ha a che fare con accordi precedenti a proposito di contratti sacri tornando a questo Marte questo Marte che è in questo momento accanto alla luna che è il difensore in un certo senso della dama ok della donna e sta tagliando tutto ciò che ha a che fare in particolare col maschile aggressivo cioè Marte in acquario non è certo un maschile aggressivo ma è un maschile che sta facendo un lavoro che è l'opposto di quello che la recrudiscenza del maschilismo sta facendo in questo momento che è quello che porta all'estremo alla violenza sul femminile ma è un Marte che libera invece il femminile dentro di sé e il maschile dentro di sé che permette finalmente di riguardare scusate di riguardare al femminile in un modo nuovo perché è evidente che questo è un punto di sutura e di ripartenza da questo momento in poi uno dei temi dei prossimi nel prossimo ciclo di 12 anni dei prossimi cicli di mesi non dimentichiamo che siamo nel bel mezzo del corridoio della dell'eclissi che ce ne sarà un'altra finale guarda caso di sole l'undici di agosto ok? tenete conto anche di questa cosa per un certo tipo di astrologia un'astrologia esoterica ogni minuto di eclisse ha a che fare con un giorno dura un giorno se voi pensate che questa eclissi durerà circa 105 minuti fate un po' il calcolo di quanto il tema che sta sotto l'eclissi lavorerà di per quanto tempo ok? più o meno tre mesi e mezzo mi sembra di se non ho fatto male i calcoli sì 90 più 15 ok? quindi ce lo portiamo fino a novembre guarda caso quando finisce quando il nodo lunare sud cioè quindi tutto il nostro passato esce dall'acquario quindi tutto il lavoro che stiamo facendo e che faremo fino a novembre è tutto un lavoro di liberazione della relazione tra maschile e femminile che in questo momento hanno bisogno di riavvicinarsi e hanno bisogno di avvicinarsi in un modo completamente nuovo nei prossimi 12 anni le relazioni cambieranno radicalmente il che non significa guardate che come funzionano in questo momento è ancora la parte diciamo così che non sa maneggiare il nuovo della non maestria per cui eccessi di femminino nel maschile eccessi di maschile nel femminile pensate a proprio a questa confusione dei ruoli che non è l'integrazione dei ruoli è la confusione nei prossimi 12 anni lavoreremo in senso completamente diverso rispetto a questo ok? l'altro tema importantissimo sul quale questa eccessi sta lavorando è il famoso lavoro del silenzio ok? del fare silenzio dentro di noi tra l'altro non dimentichiamoci che stanotte è anche il Guru Purnima per chi mastica un po' di cultura indiana il Guru Purnima è una festa induista importantissima che è la festa del maestro e che si svolge in tutte le lune piene in acquario di fronte al sole in leone quindi durante il segno del leone e il fatto stesso che quest'anno in questo momento il Guru Purnima sarà si svolgerà con un'eclissi di luna ci dice una cosa molto importante per quello che per quello che io percepisco molto forte e che è l'ora nella quale i Guru si stanno eclissando il vecchio mondo si sta eclissando cioè abbiamo un grande bisogno di entrare nelle qualità femminili della maestria cioè nell'intuizione nel sentire che non ha niente a che fare con gli eccessi di New Age nella quale chiunque canalizzi qualsiasi cosa che per carità va benissimo così tutto è perfetto così com'è ma è proprio un bisogno di rientrare nella propria maestria nel proprio silenzio interiore e di contattare il maestro interiore dentro di noi ok? un maestro che in questo momento è occultato questa è l'epoca in cui forse ci sono più Guru in realtà anche se fanno finta di non esserlo alcuni ci sono più ci sono più ci sono più terapeuti cioè guardate che non sto facendo un discorso di giudizio non mi interessa giusto ieri sera scrivevo perché ho letto delle cose abbastanza boh così poche mi hanno fatto sorridere che non è una questione di avere il maestro più bravo di tutti che il mio maestro è meglio dell'altro il punto qui è di tornare finalmente di diventare finalmente laddove è possibile maestri di se stessi quindi di uscire ciao Eleonora 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 2121 è un doppio ribadiamo no? sia il nome che il numero Eleonora stavo dicendo si tratta di entrare nella propria maestria interiore si tratta di entrare nel nel sentire ok? e di fare quel benedetto salto per l'umanità che nell'astrologia si esprime con il salto dalla sesta alla settima casa che è la prima casa in alto nella nella fisiologia esoterica dei chakra passai dal secondo al terzo chakra finalmente cioè dal secondo chakra che è quello tutto emotivo dove c'è anche la sceneggiata c'è anche la confusione c'è anche la manipolazione c'è anche il la sofferenza per l'altro al chakra della centratura no? e sto semplificando come potete ormai mi conoscete sapete che io uso i simboli i simboli come metafore ok? molto potenti di quello che sta accadendo quindi questo doppio messaggio da un lato il tagliare i patti sacri che non servono più le identificazioni pulire tutta questa cosa e quindi permetterci di farlo guardate che ci sono cose antichissime lì ok? per chi non crede nelle vite passate facciamo profondissime per chi crede nelle vite passate probabilmente vite e vite ok? per chi crede nelle altre dimensioni cose di mondi paralleli che ci stanno influenzando e dall'altra parte entrare nel sentire entrare nel sentire è fondamentale sia per gli uomini che per le donne bene sì Giampi il mio amico lì ciao Giampi come stai? dice sentirsi esatto sentirsi ascoltarsi accorgersi quindi avere un approccio alle cose che ci sono fuori che ci permette di tornare dentro io credo che quello che percepisco è che accorgersi è molto diverso da osservare dal vedere e basta perché nell'accorgersi c'è un portare l'esterno dentro di sé qualcosa che ci permette poi di interagire con quello che è il fuori c'è una forma di in realtà di fusione di empatia tra le due parti tra l'osservatore e l'osservato diciamo ciao Maria Letizia una piuma bianca gioca davanti a me mentre parli di questi temi è interessante tutto ciò sappiamo che l'universo ci parla sempre la sincronicità e il modo la capacità che ha l'universo di parlarci in modo unico no? solo a noi stessi mentre sta succedendo anche per altri ma a noi dice delle cose e ad altri delle altre ancora è la sua una delle sue bellezze quindi dicevo questi due temi se riusciamo in queste prossime in questa prossima oretta sì perché grossomodo appunto l'acme sarà intorno ai 22.20 vi dicevo facciamo un un'operazione di ascolto se possiamo stare anche in mezzo agli altri io so che in Italia ma non solo in tutta Europa si stanno organizzando osservatori amici persone in spiaggia eccetera eccetera è bellissimo la cosa però importante in questo è proprio questo approccio diciamo così a questo mistero che ci sta dando questa eclissi con l'attitudine femminile del guardarsi dentro con l'attitudine proprio del ricevere senza quello quello sguardo avido che è verso l'esterno ok cioè lasciamo permettiamoci di sentire di sentire che cosa sta comunicando permettiamoci di contattare anche dalle parti io dico spesso delle parti disagevoli di noi reiette non non accettate o socialmente o da dal nostro sistema di credenze personale o perché se nel momento in cui gli permettiamo di azionare abbiamo paura di far saltare degli equilibri tutti quanti ce li abbiamo eh io non sto parlando di di voi sto parlando di noi è un noi in questo momento e quindi permettiamo a Marte San Michele Shiva Cali tutto quello che volete di tagliare in maniera chirurgica e delicata al tempo stesso ok tutto quello che sta accadendo è questo eh sicuramente tra dentro un paio di giorni gli effetti dell'eclissi cominceranno apparentemente ad andarsi cominceranno faccio un gioco di parole a eclissarsi nel senso di a tornare dentro di noi a lavorare perché il lavoro dell'eclissi e poi quello di rinascondersi ok eclissarsi significa nascondersi significa uscire da ciò che è classificabile quindi ehm c'è bisogno proprio del vuoto ehm volevo regalarvi una carta in proposito e poi ce ne andiamo almeno io me ne vado arrivo eh eccomi qua vedo tanta gente connessa speravo di farmi di farvi una sorpresa stasera ma non sta accadendo va bene allora facciamo che chiudiamo gli occhi tutti eccola qua la regina di bastoni ecco questo messaggio molto forte che ha a che fare con una regina che è notoriamente la regina magica dei tarocchi dei rider weight poi in particolare vedete questo bellissimo gatto nero e quindi ha a che fare con riconoscere la propria parte femminile ok e di permettersi questo vale anche per noi maschi per noi men per noi maschietti di permettersi di sentire di nuovo lo scorrere di una alleanza sana di un'energia sana tra l'uomo e la donna perché questi ultimi anni hanno provocato un inevitabile salvifico a lungo andare eh bisogno di eh allontanarsi ok perché voi donne vi siete giustamente avete strepitato avete pianto vi siete incazzate avete detto no avete preso tutta una serie di posizioni sacrosante e noi uomini dall'altra parte a parte le reazioni inconsulte ehm abbiamo dovuto tornare dentro no? se ci pensate un gioco di parti no? voi siete tornate fuori noi siamo andati dentro per potersi riequilibrare è proprio questo che dobbiamo fare adesso è il momento nei prossimi mesi nei prossimi anni di cominciare un altro dialogo un dialogo completamente nuovo e che è un dialogo che sia che permetta di rispettare la magia che c'è dentro ognuno di noi bellissimo il simbolo del Tao voglio finire con questo Silvia Rovai ti ringrazio perché è veramente bellissimo in questo momento ciao a tutti buona Eclissi godetevela state in mezzo al mondo come avrebbe letto qualcuno state in mezzo al mondo senza essere del mondo ok faccio le citazioni colte grazie grazie grazie